Una donna di 77 anni, Franca D'Agostino, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Arno a Peramo. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto oggi intorno alle ore 13 in un appartamento al secondo piano di un condominio. Sono stati alcuni vicini a sentire un odore nauseabondo e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Al momento non si conoscono le cause del decesso.